Pochi nomi nell'industria dell'intrattenimento possono vantare il successo di Diana Ross. Sempre sotto i riflettori, ha speso il suo patrimonio in modo sontuoso, suscitando domande tra il pubblico. Quanto vale esattamente Diana Ross? E come ha accumulato tutta questa ricchezza? Scopriamo insieme come il patrimonio di Diana Ross abbia lasciato la sua famiglia senza parole. Diana Ross ha trascorso oltre 60 anni nell'industria, lavorando duramente per diventare il nome noto che è oggi. Nata a Detroit, Michigan, il 26 marzo 1944, è la seconda di sei figli di Ernestine Nimotone e Fred Ross Senior. Anche se sua madre l'aveva chiamata Diane, un errore nel compilare il certificato di nascita fece sì che il suo nome fosse scritto come Diana. Tuttavia, amici e familiari continuarono a chiamarla Diane. Sua madre, Ernestine, nata il 27 gennaio 1916, morì il 9 ottobre 1984. Suo padre, Fred Ross Senior, nacque il 4 luglio 1920 e morì il 21 novembre 2007. Diana crebbe in una famiglia con due sorelle, Barbara e Rita, e tre fratelli, Arthur, Fred Junior e Wilbert, detto Cico. La loro fede battista tradizionale ebbe un ruolo importante nella formazione dei valori e delle credenze di Diana. La famiglia Ross viveva al 635 Belmont Street, nel quartiere nord di Detroit, vicino a Highland Park, un'area che aveva legami significativi con il mondo della musica. Tra i vicini di casa c'era Smokey Robinson, che sarebbe diventato una figura chiave della leggendaria casa discografica Motown Records. Tuttavia, quando Diana aveva solo sette anni, una tragedia colpì la famiglia. Sua madre fu diagnosticata con la tubercolosi, portando a un periodo difficile. I genitori decisero di mandare Diana e i suoi fratelli a vivere con i nonni materni, il reverendo William Motown e sua moglie, a Besser, Alabama, per garantire loro cure adeguate. Questo distacco fu difficile per Diana e i suoi fratelli, che dovettero adattarsi alla vita con i nonni. Quando la madre di Diana guarì, la famiglia si riunì il giorno del 14esimo compleanno di Diana, nel 1958. Le relocazioni sembravano diventare una costante nella vita della famiglia Ross, che si trasferì nei Brewster Douglas Projects di Detroit, un quartiere di classe operaia. La famiglia si stabilì in St. Antoine Street, dove vissero per alcuni anni. Diana frequentò la prestigiosa Cass Technical High School, uno scuola superiore che offriva corsi di preparazione universitaria. Durante l'adolescenza, Diana sognava di diventare una stilista e frequentò corsi serali in design di abbigliamento, sartoria e modisteria, nonché corsi di modella e cosmetologia nei fine settimana. Importante notare che il suo vicino, Smokey Robinson, la supportò finanziariamente durante quel periodo. Oltre agli studi, Diana partecipava alle attività extracurriculari, iscrivendosi anche alla squadra di nuoto della scuola. Questa dedizione al miglioramento personale le permise di ottenere un importante traguardo. Fu assunta da Hudson's, un noto grande magazzino di Detroit, come la prima ragazza afroamericana addetta alla mensa. Questo lavoro lanciò la sua carriera pubblica e, per arrotondare il suo stipendio, offriva servizi di parrucchiera ai vicini, dimostrando il suo spirito imprenditoriale. Il suo impegno diede i suoi frutti nel 1962 quando si diplomò alla Cass Technical High School, aprendo la strada alla sua incredibile carriera nel mondo dell'intrattenimento. All'età di 15 anni, Diana si unì a un gruppo femminile chiamato The Primates, la controparte femminile dei Primes. L'introduzione di Diana al gruppo fu facilitata da Paul Williams, un membro dei Primes, che riconobbe il suo talento e la presentò al manager musicale Milton Jenkins. Nel gruppo, Diana collaborava con altre talentuose cantanti come Florence Ballard, la prima membro del gruppo, Mary Wilson e Betty McClone. Nel 1960, le Primates attirarono l'attenzione di Robert Bateman, un dirigente musicale, quando vinsero una gara di talento a Windsor, Ontario. Bateman le invitò a fare un'audizione per la rinomata etichetta Motown Records, segnando un momento cruciale nella carriera di Diana e delle Primettes. La Motown avrebbe poi giocato un ruolo fondamentale nel trasformarle in superstar. Prima di fare l'audizione, Diana chiese consiglio al suo vicino, Smokey Robinson, che insistette perché il gruppo facesse prima un'audizione per lui. Da quel momento, il viaggio verso il successo di Diana Ross fu inarrestabile. Questo evento fu significativo poiché Robinson era già un artista affermato e una figura di spicco nella scena musicale di Motown. Dopo l'audizione privata, riconobbe il talento e il potenziale delle Primettes e si giunse a un accordo per portare il gruppo alla Motown, ma con una condizione. Smokey e il suo gruppo volevano che il chitarrista principale delle Primettes suonasse per loro. Marv Tuplin, scoperto da Diana Ross, avrebbe suonato per la band di Robinson, i Miracles, per i successivi 30 anni, contribuendo al loro successo. Nel suo libro autobiografico Secrets of Asperow, Diana Ross rifletté su questo accordo e lo considerò uno scambio equo. Questo momento non solo consolidò il suo legame con Motown, ma preparò il terreno per la sua ascesa al successo e per la trasformazione delle Primettes nel gruppo iconico, le Supremes. Dopo la loro prima audizione per Motown, le Primettes erano determinate a farsi un nome nell'industria musicale come una delle figure più iconiche. Barry Gordi, fondatore di Motown Records, nella sua autobiografia To Be Loved, racconta di come rimase colpito quando sentì Diana cantare There Goes My Baby. Era talmente affascinato dalla sua voce da fermarsi immediatamente per chiedere loro di esibirsi di nuovo. Tuttavia, dopo aver scoperto la loro giovane età, chiese al gruppo di terminare la scuola superiore prima di firmare un contratto con Motown. Nonostante questo ostacolo iniziale, le Primettes non si lasciarono scoraggiare e continuarono a frequentare la sede della Motown, Hitsville, USA, aiutando nelle registrazioni e offrendo il loro contributo anche solo battendo le mani o facendo da coriste, dimostrando il loro impegno e la volontà di far parte della famiglia Motown. In questo periodo, Diana Ross assunse diversi ruoli all'interno del gruppo, diventando la parrucchiera, truccatrice, sarta e stilista. Alla fine degli anni Sessanta, le Primettes dovettero sostituire Betty McGlone con Barbara Martin e ottennero l'opportunità di registrare a Hitsville Studios. Molte di queste canzoni furono scritte da Smokey Robinson, che nel frattempo era diventato vicepresidente dell'etichetta discografica. Il gruppo incise brani come Your Heart Belongs To Me e A Breathtaking Guy. Anche Barry Gordy contribuì con canzoni come Buttered Popcorn, con Florence Ballard come voce principale e Let Me Go The Right Way. Sebbene questi brani ottenessero successo regionale, le Supremes non erano ancora una sensazione a livello nazionale. Nel 1961 Barry Gordy prese una decisione storica per l'industria musicale. Firmò il gruppo, ma a condizione che cambiassero nome. All'epoca, il gruppo si chiamava ancora Primettes e la scelta del nuovo nome fu affidata a Jenny Bradford, una segretaria e autrice della Motown. Florence Ballard, l'unica del gruppo presente durante la scelta, optò per il nome Supreme. Le altre componenti del gruppo non erano del tutto convinte e Diana espresse la preoccupazione che potessero essere confuse con un gruppo maschile. Tuttavia, la decisione finale spettò a Barry Gordy che firmò il gruppo con il nome The Supremes il 15 gennaio 1961. Le Supremes ottennero il loro primo grande successo con il brano When the Love Starts Shining Through His Eyes c'è raggiunse la posizione numero 23 nella classifica Billboard Hot 100. Alla fine dell'anno, Barry Gordy fece una mossa audace, designando Diana Ross come cantante principale del gruppo, segnando l'inizio della sua ascesa come figura centrale delle Supremes. Nel giugno del 1964, durante il tour come parte del Dick Clark's Cavalcade of Stars, le Supremes raggiunsero un'importante pietra miliare con il loro primo singolo numero uno, Where Did Our Love Go? Questo successo segnò l'inizio di un'era straordinaria per il gruppo. Tra l'agosto del 1964 e il maggio del 1967, Diana Ross, Mary Wilson e Florence Ballard contribuirono a dieci singoli che raggiunsero il primo posto nelle classifiche. La loro musica dominò non solo la scena musicale degli Stati Uniti, ma anche quella del Regno Unito, con tutti questi brani che raggiunsero la top 40 delle classifiche britanniche. La popolarità delle Supremes si estese ben oltre i confini statunitensi, rendendole una sensazione a livello globale. questo successo le consacrò come l'atto vocale di maggior successo della Motown. Durante questo periodo, Diana Ross iniziò a imporsi sempre di più nel gruppo, assumendo il ruolo principale nelle interviste e, spesso, rispondendo anche a domande rivolte a Mary o Florence. Inoltre, cominciò a chiedere un compenso superiore rispetto alle altre componenti del gruppo, innescando tensioni interne. Nel 1965, chiese alle sue compagne di iniziare a chiamarla Diana, anziché Dien, segnando il passaggio alla sua nuova identità pubblica come Diana Ross, la leader delle Supremes. Tuttavia, il successo delle Supremes non fu privo di difficoltà. Problemi come l'alcolismo e la gestione del peso iniziarono a emergere all'interno del gruppo, portando Barry Gordy, a prendere la difficile decisione di allontanare Florence Ballard nel luglio del milione 1967, sostituendola con Cindy Birdsong. Con questo cambiamento, Gordy decise di rinominare il gruppo Diana Ross and the Supremes, una mossa strategica per consolidare il gruppo come una band di supporto a una star solista, aumentando così i cachet delle esibizioni. Durante questo periodo, il gruppo apparve come un trio di suore cantanti in un episodio della popolare serie tv Tarzan nel 1968. Tra i loro singoli di successo di quel periodo figurano Forever Came Today e Someday We'll Be Together, quest'ultimo, l'ultimo brano con Diana Ross che fu registrato con la sola partecipazione di session singers come Giulia e Maxine Waters e Johnny Bristol. Nonostante ciò, Mary Wilson e Cindy Birdsong continuarono a cantare nelle registrazioni. Gordy spingeva Ross al massimo e questa pressione portò la cantante a soffrire di anoressia nervosa come racconta nella sua autobiografia Secrets of a Sparrow. Durante un'esibizione a Boston nel 1967 Ross crollò sul palco e dovette essere ricoverata per esaurimento. Nel 1968 Ross iniziò a esibirsi come artista solista in speciali televisivi tra cui quelli delle Supremes come TCB e GIT on Broadway The Dynashore Show e un programma di Bob Hope tra gli altri. A metà del 1969 Gordy decise che Ross avrebbe lasciato il gruppo entro la fine dell'anno e così a luglio iniziò a registrare il suo primo lavoro da solista. Uno dei primi piani per Ross per avviare la sua carriera da solista fu quello di presentare pubblicamente un nuovo gruppo della Motown anche se non si attribuì il merito della loro scoperta il reparto pubblicità della Motown accreditò Ross come scopritrice dei Jackson 5. Ross presentò il gruppo in diversi eventi pubblici tra cui The Hollywood Palace. Nel novembre dello stesso anno confermò la sua separazione dalle Supremes su Billboard. La sua presunta prima registrazione da solista Someday We'll Be Together venne infine pubblicata come un brano delle Supremes e divenne l'ultimo singolo numero uno del gruppo nella Hot 100. Fu anche l'ultimo singolo numero uno della Billboard Hot 100 degli anni 60. Ross fece la sua ultima apparizione con le Supremes al Frontier Hotel di Las Vegas Nevada il 14 gennaio 1970. Nel maggio del 1970 nel 1970 Ross pubblicò il suo album di debutto omonimo che includeva i suoi brani iconici Reach Out and Touch Somebody's Hand e Ain't No Mountain High Enough quest'ultimo diventando il suo primo singolo numero uno da solista. Gli album successivi Everything is Everything 1770 e Surrender 1771 uscirono poco dopo. Nel 1971 la ballata I'm Still Waiting divenne il suo primo singolo numero uno nel Regno Unito. Più tardi nello stesso anno Ross fu protagonista del suo primo speciale televisivo da solista Diana che includeva i Jackson 5. Nel 1971 Diana Ross iniziò a lavorare al suo primo film Lady Sings the Blues 1972 che era una biografia liberamente ispirata alla cantante Billie Holiday. Nonostante alcune critiche ricevute per aver accettato il ruolo una volta che il film uscì nell'ottobre 1972 Ross ottenne apprezzamenti dalla critica per la sua interpretazione. il critico jazz Leonard Fader amico di Holiday lodò Ross per aver catturato perfettamente l'essenza di Lady Day. Il ruolo di Ross nel film le valse una nomination ai Golden Globe e agli Oscar come migliore attrice. La colonna sonora di Lady Sings the Blues ottenne altrettanto successo raggiungendo il numero uno della Billboard 200 rimanendovi per due settimane e vendendo due milioni di copie. Nel novembre 1972 Ross cantò la canzone When We Grow Up per l'album per bambini Free to Be You and Me. Nel 1973 Ross ottenne il suo secondo successo numero uno negli Stati Uniti con la ballata Touch Me in the Morning. Più tardi nello stesso anno la Motown pubblicò Diana and Marvin un album di duetti con l'artista della Motown Marvin Gay che divenne un successo internazionale. Durante il suo tour nel 1973 Ross divenne il primo artista nella storia del Giappone a ricevere un invito a un audience privata con l'imperatrice Nagako moglie dell'imperatore Irohito. Nell'aprile del 1974 Ross divenne la prima donna afroamericana a co-condurre gli Academy Awards insieme a John Houston Burt Reynolds e David Neven dopo la pubblicazione di un album dal successo modesto Last Time I Saw Him nel 1973 il secondo film di Ross Mahogany fu rilasciato nel 1975 il film la riunì con Billy D Williams suo co-protagonista in Lady Sings The Blues e presentò costumi disegnati dalla stessa Ross la storia seguiva un aspirante stilista che diventa una modella di passerella e il fiore all'occhiello dell'industria tuttavia Mahogany ebbe una produzione problematica fin dall'inizio il regista originale del film Tony Richardson fu licenziato durante le riprese e Barry Gordy assunse il suo posto Gordy e Ross ebbero contrasti durante le riprese portando Ross a lasciare il set prima del termine costringendo Gordy a utilizzare la segretaria Edna Anderson come controfigura per Ross sebbene il film fosse un successo al botteghino non ricevette buone critiche la recensione di Time rimproverò Gordy per aver sprecato una delle risorse più preziose d'America Diana Ross tuttavia Ross ottenne il suo terzo singolo numero uno negli Stati Uniti con Theme from Mahogany Do you know where you're going to un anno dopo nel 1976 Ross pubblicò il suo quarto singolo numero uno da solista Love Hangover una canzone sensuale e drammatica che si trasformava in un brano disco a ritmo sostenuto più tardi nello stesso anno Ross lanciò il suo tour An Evening with Diana Ross il successo del tour portò a una residenza di due settimane al Palace Theatre di Broadway e a uno speciale televisivo di 90 minuti nominato agli Emmy con lo stesso titolo con effetti speciali realizzati da Stan Winston in una scena in cui Ross interpretava la leggendaria artista di cabaret Josephine Baker e le cantanti blues Bessie Smith e Ethel Waters oltre a ricevere un premio Tony speciale gli album Baby It's Me 1977 e Ross 1978 ebbero un successo modesto nel 1977 la Motown acquisì i diritti per la realizzazione cinematografica del musical di Broadway The Wiz una reinterpretazione afroamericana del Il meraviglioso mago di Oz di Frank Baum Il film inizialmente doveva includere gli attori del palcoscenico ma il produttore Rob Cohen non riuscì a ottenere l'interesse di nessuno studio cinematografico di Hollywood Solo dopo che Ross convince Cohen a scegliere lei anziché Stephanie Mills che aveva interpretato Dorothy a Broadway Universal Pictures accettò di finanziare la produzione Questa decisione di casting portò a un cambiamento nel copione del film trasformando Dorothy da scolara a insegnante Il ruolo dello spaventapasseri interpretato da qualcun altro sul palco fu infine assegnato a Michael Jackson ex collega di Ross alla Motown Ross e Jackson ebbero un modesto successo con il loro brano Ease on down the road per il film il loro secondo duetto parte dell'ensemble di The Weeds Brand New Day trovò un certo successo all'estero L'adattamento cinematografico di The Weeds costò 24 milioni di dollari ma alla sua uscita nell'ottobre del 1978 guadagnò solo 21 milioni al botteghino sebbene i diritti di trasmissione televisiva pre-release fossero stati venduti alla CBS per oltre 10 milioni di dollari il film generò una perdita netta di 10 4 milioni per la Motown e Universal all'epoca era il musical cinematografico più costoso mai realizzato il fallimento del film segnò la conclusione della breve carriera di Ross sul grande schermo e contribuì alla riluttanza degli studi di Hollywood a produrre progetti cinematografici completamente afroamericani che erano diventati popolari durante l'era della blaxploitation all'inizio e a metà degli anni 70 nel 1979 Ross pubblicò The Boss continuando a riscuotere successo tra il pubblico da ballo con il brano omonimo che diventò un singolo numero uno per le piste da ballo il 16 luglio 1979 Ross co-condusse un episodio di The Tonight Show di Johnny Carson con Linda Carter George Carlin e Muhammad Ali come ospiti più tardi nello stesso anno Ross presentò il programma speciale di HBO Standing Room Only girato al Circus Maximus Theater del Caesars Palace a Las Vegas Nevada durante il suo tour tour 79 questo speciale di concerti è noto per la sua apertura durante la quale Ross fa il suo ingresso attraverso uno schermo cinematografico nel novembre di quell'anno Ross ha eseguito il brano principale dell'album The Boss come artista ospite durante il Macy's Thanksgiving Day Parade a New York City nel 1980 Ross ha pubblicato il suo album di maggior successo fino ad allora Diana composto dal chitarrista dei Chick Nile Rogers e dal bassista Bernard Edwards l'album includeva i successi I'm Coming Out e Upside Down quest'ultimo divenuto il suo quinto singolo di successo negli Stati Uniti alla fine del 1980 Ross ha ottenuto un successo nella top 10 con il tema del film It's My Turn di Continuando le collaborazioni con Hollywood Ross ha registrato la ballata duettistica Endless Love con Lionel Ricci che è diventata il suo sesto e ultimo singolo a raggiungere il numero uno nella Billboard Hot 100 Il patrimonio netto di Diana Ross non dovrebbe sorprendere chiunque conosca la sua carriera L'iconica cantante ha dominato le classifiche sia come parte delle Supremes che come artista solista Con una carriera musicale che è iniziata da adolescente non è sorprendente che Ross abbia guadagnato una notevole fortuna Secondo Celebrity Net Worth il patrimonio netto di Diana Ross nel 2024 è stimato in 250 milioni di dollari Ha accumulato questa fortuna grazie al suo lavoro come cantante sia come artista solista che con le Supremes produttore discografico sceneggiatrice attrice produttrice di film e televisione e compositrice Ross è stata sposata due volte e ha cinque figli ha intrapreso una relazione romantica con il CEO della Motown Barry Gordi nel 1965 la loro relazione è durata diversi anni e ha portato alla nascita della primogenita di Ross Ronda Suzanne Silberstein nell'agosto del 1971 due mesi dopo l'inizio della gravidanza di Ronda nel gennaio del 1971 Ross ha sposato l'esecutivo musicale Robert Ellis Silberstein che ha cresciuto Ronda come sua figlia nonostante sapesse della sua vera paternità Ross ha informato Ronda che Gordi era il suo padre biologico quando Ronda aveva 13 anni prima di ciò Ronda si riferiva a Gordi come zio BB Ross ha avuto due figlie con Silberstein Tracy Joy Silberstein Tracy Ellis Ross e Chodney Lane Silberstein nate rispettivamente nel 1972 e nel 1975 Ross e Silberstein hanno divorziato nel 1977 nel 2023 Smokey Robinson ha dichiarato in un'intervista che lui e Ross hanno avuto una relazione durata circa un anno mentre Robinson era sposato con la sua prima moglie Claudette secondo Robinson Ross ha messo fine alla relazione quando lui ha ammesso di essere ancora innamorato di Claudette amica di Ross quando gli è stato chiesto del racconto di Robinson il rappresentante di Ross non ha rilasciato commenti Ross ha avuto una relazione con Gene Simmons bassista e colit singer dei Kiss dal 1980 al 1983 hanno iniziato a frequentarsi dopo che Cher che era rimasta amica di Simmons dopo la loro separazione gli ha suggerito di chiedere a Ross di aiutarlo a scegliere il suo regalo di Natale Simmons nella sua autobiografia afferma di non aver frequentato Cher quando ha incontrato Ross Ross ha concluso la sua relazione con Simmons quando lui le ha dato l'errata impressione di aver ripreso la sua relazione con Cher la storia di Simmons è cambiata nel 2015 quando ha rivelato di essersi innamorato di Ross mentre era con Cher il che ha messo fine all'amicizia tra Ross e Cher Ross ha incontrato il suo secondo marito il magnate norvegese della navigazione Arne Ness Junior nel 1985 e lo ha sposato l'anno successivo è diventata matrigna dei suoi tre figli più grandi Katinka Christopher e la cantautrice Folk Leona Naes hanno avuto due figli insieme Ross Arne nato nel 1987 ed Evan Olav Ross e Ness hanno divorziato nel 2000 dopo che le notizie della stampa hanno rivelato che Ness aveva avuto un figlio con un'altra donna in Norvegia Ross considera Ness l'amore della sua vita Ness è morto in un incidente di arrampicata in montagna in Sudafrica nel 2004 Ross mantiene un buon rapporto con i suoi tre ex figliocci Ross ha sette nipoti il nipote Raif Henoch nato nel 2009 dalla figlia Ronda il nipote Leif nato il 5 giugno 2016 Indigo nato nel 2016 nato dal figlio Ross Ness le nipoti Callaway Lane nata nel 2012 e Everly nata nell'ottobre 2007 2019 nate dalla figlia Chudney la nipote Jagger Snow nata nel 2015 e il nipote Ziggy nato nel 2020 nato dal figlio Evan Ross ha influenzato molti artisti tra cui Michael Jackson Beyonce Madonna Jade Thirlwall Questlove Ladies e Ting Ting Diverse canzoni di Ross sono state reinterpretate e campionate Ain't No Mountain High Enough è stata utilizzata nel film Chicken Little il brano è stato anche reinterpretato dal vivo e in album da Jennifer Lopez e Amy Winehouse Janet Jackson ha campionato Love Hangover nella sua canzone del 1997 My Need presente nell'album The Velvet Troop avendo già campionato Love Child e Someday Will Be Together di Ross e le Supremes nei suoi brani del 1993 You Want This e If entrambi pubblicati come singoli dall'album Janet Love Hangover è stata campionata anche nel singolo di successo del 1998 di Monica The First Night così come da Will Smith Master P che ha campionato anche Missing You Heavy D e Bone Tugs and Harmony It's Your Move è stato campionato nel 2011 da Vectroid per la sua canzone Lisa Frank 420 Modern Computing che è apparsa nel suo nono album Floral Shop sotto il suo alias Macintosh Plus It's My House è stato campionato da Lady Gaga per la sua canzone Replay presente nell'album del 2020 Cromatica vari lavori sono stati ispirati dalla carriera e dalla vita di Ross il personaggio di Dina Jones sia nella versione teatrale che in quella cinematografica di Dreamgirls è stato ispirato da Ross Motown The Musical è un musical di Broadway lanciato il 14 aprile 2013 racconta la storia della creazione della Motown Records da parte di Barry Gordi e della sua relazione con Diana Ross è stata interpretata da Valisia Lecai nel 2013 e da Lucy St. Louis nel 2016 Ross è stata anche interpretata da Candice Marie Woods dal 2017 al 2019 e da Dariandra Tucker nel 2021 nel musical Ain't Too Proud Ci sono state molte altre interpretazioni di Ross in film televisione e altri media inclusa Holly Robinson Peter in The Jacksons An American Dream 1992 e Michelle Williams delle Destiny's Child in American Soul 2019 Come membro delle Supremes le sue canzoni Stop In The Name of Love e You Can't Hurry Love sono tra le 500 canzoni che hanno plasmato il Rock'n'Roll secondo il Rock'n'Roll Hall of Fame Sono state inserite nella Rock'n'Roll Hall of Fame nel 1988 hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 1994 e sono entrate nel vocal group Hall of Fame nel 1998 nel 2004 Rolling Stone ha posizionato il gruppo al numero 96 nella sua lista dei 100 migliori artisti di tutti e atti tempi 100 artisti più grandi di tutti e tanti tempi come voce principale delle Supremes e come artista solista Ross ha guadagnato 18 singoli al numero 1 12 come voce principale delle Supremes e sei come artista solista Ross è l'unica artista femminile ad avere singoli al numero 1 come artista solista come parte di un duetto con Lionel Richie come membro di un trio le Supremes e come membro di un ensemble con We Are The World degli USA for Africa Ross è stata presente nel singolo numero 1 del 1997 di Notorious B.I.G. More Money, More Problems poiché la sua voce nel brano I'm Coming Out del 1980 è stata campionata per la canzone grazie per aver guardato assicurati di iscriverti al nostro canale e di controllare un altro dei nostri video interessanti